Il presidente dell'Inps Pasquale Tridico è in visita all'Aquila per incontrare i dipendenti neoassunti in regione lo scorso 17 aprile. In Abruzzo l'Istituto di Previdenza Sociale ha assunto circa 90 lavoratori, vincitori di un concorso nazionale che saranno distribuiti sulle quattro province. In questi giorni l'Inps ha incontrato peraltro anche i consulenti del lavoro della regione Abruzzo. All'Aquila ha avuto anche questa città, questa regione, che ha dato tanto in questi anni di grave crisi, come sappiamo, e ha avuto 90 dipendenti, che sono anche questa una forza che rivitalizzerà la forza lavoro dell'Istituto, la forza lavoro della regione Abruzzo, sapientemente diretta dal direttore Luciano Mosecca. All'Aquila, la Cherelle, anche se non ha riguardato questo concorso, è stata per lungo tempo quella dei 10 dipendenti del Codcenter Comdata. Come si sa, l'Inps ha diverse commesse che non hanno potuto partecipare al bando pubblico per essere stabilizzati, perché il primo giugno 2021 non erano in servizio in quella commessa e quindi questo era uno dei requisiti. Il Presidente ha assicurato che l'Inps servizia in espansione, per cui ci sono ottime possibilità per loro. La stabilizzazione appunto nel pubblico avviene per selezione, ci mancherebbe, ma abbiamo valorizzato tutte le esperienze professionali avvenute nel passato. L'attuale società in servizi è in espansione e quindi i primi a essere assunti potranno essere, ovviamente lo decideranno i vertici che verranno, ma insomma mi sembra ragionevole supporre che i primi ad essere assunti nella successiva espansione saranno quei pochissimi, perché bisogna essere sinceri, sono veramente pochi, si contano su una mano, forse su due, i pochissimi che sono rimasti fuori, ma perché non erano nella commessa quando è stata fatta la selezione, cioè erano impiegati precedentemente, magari a volte anche in altre commesse.